oggi un piccolo omaggio piccolo video dedicato ai nostri amici breton ed in particolare a loro due lui è giulio figlio di benito erede speriamo da questo momento farà parte della famiglia obiettivo beccaccia anche questa volta l'obiettivo è quello di creare un cane breton specialista beccacce e allo stesso tempo che ci faccia divertire anche con i fagiani e qualcos'altro benito è stata la dimostrazione che con i breton si può passare dalla caccia specialistica alle beccacce fino a divertirci a fagiani acquaglie starne quindi diamo il benvenuto a giulio e salutiamo benito per una stagione per un'altra stagione memorabile magari Assim mi Chiava a presto sottot winding è spettone a Grazie. Grazie. Mamma mia, ragazzi, che guidata. Bravo, bravo. Grazie. 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 Eccolo là, bravo, bravo, bravo. Allora, bravo Benito, bravo. Quindi, ragazzi, se non abbiamo un bredono così, un cane così, che va sui faggiani, che ti fa delle guidate, queste guidate qua allucinanti, i faggiani difficili non si fanno. Grazie. 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 Grazie.